Vorrei parlarvi del pensiero di Federico Faggin, un fisico italiano molto intelligente che sostiene una concezione affascinante della realtà, che apprezzo molto e condivido in buona parte. L'idea di base è che la coscienza sia un parametro fondamentale della realtà e non sia un epifenomeno cerebrale. Dal punto di vista delle teorie fisiche mi pare di aver capito che sostenga che la base ontologica della realtà non siano gli atomi e le particelle, ma i campi quantici. Questi campi sarebbero anche l'origine dello spazio del tempo. Lo spazio, il tempo, la materia, l'energia sarebbero effetti e manifestazioni, potremmo dire, di questi campi quantici. E anche gli esseri viventi sarebbero campi quantici. La realtà sarebbe un insieme di innumerevoli campi quantici. Molto affascinante. Pensando in questi termini mi vengono in mente delle fortissime analogie con Matrix, con il mito della caverna di Plasone, con almeno in parte l'immaterialismo di Berkeley. Insomma, la realtà di base sarebbe quella che in diverse dottrine si può definire spirito. La dimensione spirituale sarebbe la base. Possiamo anche chiamare questa base il piano immanifesto, da cui si manifesta il mondo di cui abbiamo esperienza. Il mondo di cui abbiamo esperienza sarebbe la materializzazione del piano coscienziale e spirituale. Molto interessante, molto affascinante. Davvero lodevole il fatto che un fisico abbia maturato questa comprensione della realtà. Non è scontato, non è facile che si riesca a maturare questo tipo di comprensione, soprattutto all'interno di campi di studio che tendono ad essere di norma materialistici, riduzionisti. Quindi, anche per quanto riguarda il rapporto mente e cervello, mi pare che ancora tutt'oggi nel panorama scientifico si tenda a presupporre che la mente o sia ridotta al cervello fisico o sia un epifenomeno cerebrale. E quindi, o abbiamo il riduzionismo o l'emergentismo. L'emergentismo, che sembra più accettabile del riduzionismo, ha comunque delle contraddizioni. Contraddizioni che riguardano il salto, il problema del gap che ci sarebbe tra il livello delle dinamiche puramente fisiche e l'emergere della coscienza. Coscienza non riducibile a stati puramente fisici del cervello. La coscienza non è solo un movimento di elettroni e di altre componenti che dovrebbero costituire le interazioni di natura bioelettrica e biochimica che avvengono nel cervello. Se pensassimo a elettroni, particelle, atomi e a tutto ciò che compone fisicamente il cervello come qualcosa di privo delle proprietà della coscienza. Se la materia fosse qualcosa di originariamente inerte, passivo, privo di coscienza in qualunque grado e forma, allora la coscienza proverrebbe dal nulla. Perché dalle interazioni fisiche e meccaniche della materia verrebbe fuori qualcosa che non è più un'interazione fisica e basta, ma un qualcosa di qualitativamente diverso, che non è più riducibile a quell'insieme di eventi intesi riduzionisticamente. Se infatti andassimo a valutare altri casi presunti di emergentismo, noteremo che in realtà nessuna proprietà è davvero qualitativamente emergente, come se fosse qualcosa di ontologicamente nuovo rispetto alle dinamiche fisiche. Ci sono proprietà emergenti, ma dal punto di vista qualitativo non si schiodano dalla dimensione puramente fisica. Tutte le proprietà definite emergenti sono completamente riducibili alle interazioni subatomiche che le compongono, non sono qualcosa di più dal punto di vista strettamente fisico. È più un'approssimazione concettuale e cognitiva che fa pensare che siano ontologicamente delle novità dal punto di vista fisico, dal punto di vista fisico, in ottica fisicalista. Poi interviene anche il concetto di complessità, che è un concetto problematico se pensato in termini di una realtà materialistica esterna e indipendente dal piano coscienziale, perché in tal caso i significati varrebbero solo nella dimensione mentale, che sarebbe circoscritta dentro il cervello. Al di fuori della mente non si potrebbero applicare i concetti di complessità che riguardano invece punti di vista soggettivi. Io mi sto rifacendo anche alle considerazioni di Marco Biaggini, uno studioso di fisica, che ha analizzato queste criticità, ovvero la complessità è un concetto che vale solo relativamente a una soggettività. Per un individuo, per una mente, qualcosa può risultare complesso, per un'altra può risultare semplice. Quindi non si può presupporre che un sistema sia complesso intrinsecamente solo perché è composto da tanti fattori e porta con sé tante variabili. Perché la complessità del calcolo e della contezza di tutto ciò che avviene in un certo sistema non è relativa al sistema in sé, ma alla capacità di una mente o di uno strumento di calcolarne tutte le dinamiche. Appunto quella è una situazione che però non riguarda intrinsecamente il sistema, ma appunto il rapporto che c'è tra quel sistema e una mente che vi si rapporta. Allora, il concetto di complessità è fumoso quando viene applicato al rapporto mente-cervello. In alcun modo si giustifica che un insieme ritenuto complesso di fattori e di dinamiche possa di per sé essere la causa della coscienza. In altre parole, non si spiega perché un certo numero di eventi dovrebbe di per sé corrispondere all'emergere della coscienza. Piuttosto valgono le riflessioni fatte prima, quelle che mostrano il salto ingiustificato che ci sarebbe tra stati fisici e stati coscienziali. Dal momento che non è in alcun modo evidente che la coscienza emerga dal cervello, al massimo è evidente una connessione tra stati mentali e stati cerebrali, e l'evidenza finisce qui. Ecco, dal momento che questa è l'unica evidenza, non c'è niente che debba costringerci a pensare che la mente sia prodotta dal cervello o addirittura ridotta al cervello, se può constatarsi che il modello ordinario, riduzionista ed emergentista, non riesce a giustificare il problema difficile, appunto l'esperienza in prima persona, l'esperienza cosciente, allora a quel punto non ha senso mantenere un modello, un paradigma che non riesce a rispondere a delle domande come questa. E conviene anche esplorare altre possibilità, come può essere il panpsichismo, o ancora meglio il cosmopsichismo. Mi sembra che il cosmopsichismo si avvicini, o forse sia proprio la posizione di Federico Faggin, ovvero l'idea che la coscienza sia una proprietà fondamentale della realtà. Tuttavia mi pare anche di aver capito che i campi quantici siano il vero fondamento anche della coscienza, che quindi la coscienza stessa non sia poi la base ultima, ma una manifestazione dei campi quantici, e che quindi ci sia un parallelismo tra coscienza e materia, un po' come pensava Spinoza, ad esempio. Molto affascinante, molto interessante il modello che ha proposto Faggin. Io sono d'accordo su molte cose, da sostenitore delle tesi di Severino magari ci sono delle divergenze, però ci sono molti più punti in comune che divergenze, e mi piacerebbe approfondire ulteriormente la questione. Detto questo, mi piacerebbe anche parlare di alcune possibili implicazioni di questa ontologia, di questo modello di realtà. Pensare che il nostro stesso corpo sia una manifestazione del nostro campo quantico può avere delle implicazioni incredibili, straordinarie. Vuol dire che allora il nostro modo di essere è intimamente correlato alla nostra struttura atomica, agli atomi che compongono le cellule e tutte le strutture del nostro corpo, dal momento che appunto la stessa coscienza, i nostri atomi sarebbero una emanazione del nostro campo quantico. E non sarebbe invece la materia ad essere il fondamento rispetto a un piano mentale ed emotivo quale suo epifenomeno. Quindi non ci sarebbe la gerarchia imposta dal materialismo, secondo cui la materia è la base che determina il piano mentale. In questa prospettiva di Faggin, la materia e il piano coscienziale sono due aspetti paralleli e non sono la base fondamentale. Quanto meno la materia non è la base fondamentale, quindi è una sorta di effetto. E qui mi viene in mente anche Leibniz quando parlava di monadi, intese come atomi spirituali immateriali da cui derivava lo spazio e il tempo e l'energia, la materia. Quindi materia, lo spazio e il tempo come fenomeni e derivati da qualcosa di più fondamentale. Davvero affascinante, davvero molto particolare questo modello. Ci tenevo a parlarne e a riflettere sulle possibili straordinarie implicazioni. Un modello di questo tipo potrebbe ridescrivere quasi tutto il sapere umano, quasi tutta la rappresentazione comune che si ha del mondo e dei rapporti tra le sue parti. Se infatti è vero che la realtà è un insieme di campi quantici, sarebbe interessante capire come interagiscano questi campi quantici dal momento che non si troverebbero all'interno di uno spazio-tempo, dato che lo spazio e il tempo sarebbero degli effetti dei campi quantici, a meno che non supponessimo che tra tanti campi quantici venne sia uno base che ingloba tutti e che sia una sorta di spazio-tempo coscienziale e quantico che ingloba tutti. e quindi funge da realtà, diciamo, spazio-temporale comune a tutti gli altri campi. E poi, ecco, un'altra riflessione, se adottiamo queste premesse, segue anche che lo spazio e il tempo non sono esterni dalla coscienza e dai campi quantici. Questo anche è qualcosa di notevole. Quindi la realtà non è indifferente ai nostri stati d'animo, ai nostri stati di coscienza. È un rispecchiamento, è un riflesso dei nostri stati di coscienza. Non nel senso che la realtà sia ridotta a un'illusione presupponendo che la coscienza sia un epifenomeno aleatorio di un cervello, ma nel senso che la coscienza è realissima, così come sono realissimi i suoi contenuti, e il mondo non è separato. Quindi c'è un cambio radicale di paradigma su più aspetti da tenere in considerazione. Mi è piaciuta anche una cosa che ha detto in un intervento dove ha esposto le sue teorie, dove ha parlato della sua esperienza di identificazione con il mondo, dove si è sperimentato come forma di amore, di unità totale tra sé e il mondo, come se lui avesse sperimentato di essere il mondo che si osserva da una prospettiva individuale. Ecco, questa è una delle cose più belle e affascinanti che condivido di tutto il suo discorso. e quindi